Per costruire una camera nebbia vi servono una ciotola di plastica ben trasparente, un paio di vassoi d'alluminio, un mattoncino di spugna per fioristi, alcol isopropilico e ghiaccio secco. Ricavate un blocchetto alto tre dita dal mattoncino di spugna e incollatelo sul fondo della ciotola col silicone. Praticate un paio di piccoli fori in corrispondenza della spugna usando un chiodo scaldato. Sigillate il tutto con un coperchio d'alluminio fissato con nastro isolante. Con una siringa introducete l'alcol isopropilico nella spugna senza farlo scolare. Versate il ghiaccio secco in uno dei vassoi e adagiatevi la ciotola rovesciata. Con un po' di fortuna riuscirete a vedere delle tracce come questa.